Ok, bene amici, io vi avevo avvisato un agosto caldo rovente, vista su settembre sempre più imminente e il rumore dei nemici, dei detrattori che si fa sempre più forte sullo sfondo. Oggi parliamo di tre modifiche flash al reddito di cittadinanza, supposte e sottoposte al governo dei migliori per cambiare, migliorare o in qualche caso sgambettare il sussidio e i suoi percettori. Io sono Mr. Lul, adesso vi spiego tutto per bene. Sigla, prima, mi raccomando, un bel like per sostenere il video e il canale, l'iscrizione col campanone per non perdere tutti gli aggiornamenti e se volete aiutare il canale c'è anche il tasto abbonamentone. Sigla! Bene, partiamo e andrò in ordine di assurdità. La prima proposta di modifica, diciamo, pseudoimmediata arriva da alcune regioni ed è già stata presentata direttamente al Ministro e al Ministero del Lavoro. L'idea è di rendere la revoca del sussidio più facile per quei percettori che non diano riscontro alle comunicazioni dei centri per l'impiego, che si tratti di convocazioni per le politiche attive oppure offerte di lavoro. Come? Beh, dando validità legale alle comunicazioni anche quelle informali come gli sms oppure le chat di whatsapp. In sintesi, se non rispondi o ti perdi il messaggino, ti revoco il sussidio. Parere personale finirà in nulla. Esistono già dei database, delle modalità di tracciamento, dei rifiuti, delle mancate risposte. Basterebbe quindi applicare per bene le condizionalità attuali e non ci sarebbe bisogno di fare queste cose. Secondo posto sul podio arriva De Luca, ovviamente da Facebook, che non pago di aver già fatto questa proposta a giugno. Beh, ci riprova. Insomma, vista la mancanza di manodopera stagionale e nello specifico dell'industria conserviera, colpa di RDC, secondo lui, De Luca propone, per chi accetta invece l'impiego, di non operare nessun taglio al sussidio, quindi RDC rimarrebbe intero, e le aziende del settore, i datori di lavoro che andranno ad assumere i percettori dovranno erogare un bonus di circa 500 euro ad integrazione del sussidio, così che i percettori porterebbero a casa a fine mese dai 1000 ai 1200 euro. Questa cosa mi lascia interdetto. Primo non so che calcolatrice stia usando De Luca. Sono d'accordo su non tagliare il sussidio per chi accetta lavoro, per chi va a lavorare, ma le aziende devono pagare gli stipendi rispettando i minimi contrattuali, i contratti collettivi, le normative sull'orario di lavoro, in generale le normative sul lavoro, e non erogare dei bonus. Siamo però arrivati al primo posto, ed è la terza proposta di modifica, che arriva direttamente da Grillo, da Facebook, quindi dal suo blog, che dice basta a RDC così come configurato, ma rilancia la necessità di un vero e proprio reddito universale per tutti, un diritto di nascita dal ricco al povero. Cito, tempo di mettere al centro l'uomo e non il mercato del lavoro. Intendiamoci per carità, l'argomento è molto interessante, meriterebbe un approfondimento serio soprattutto anche per tutte le teorie economiche di sostenibilità di questo strumento che ovviamente gli gravitano attorno. Da chi però ha introdotto RDC e reddito come lo conosciamo oggi. Ecco, io mi aspetto delle proposte di modifica serie nel breve termine per salvare, migliorare la misura e non un visionario orizzonte temporale diciamo al 2000 mai probabilmente. Fatemi sapere come sempre la vostra nei commenti, tendenzialmente appunto cerco di leggere e rispondere a tutti i commenti, mi interessa molto sapere cosa ne pensate. E detto questo, se il video è stato utile, interessante per fare anche un po' di chiarezza, mi raccomando un bel like, poi l'iscrizione col campanone per non perdervi aggiornamenti anche come questo e se volete aiutare il canale c'è anche il tasto abbonamentone. Alla prossima, grazie da Mr. Lul.